Cari amici e cari telespettatori, un caloroso saluto da parte mia, un cordiale benvenuto a questo salotto letterario in cui vi ricordo il nostro scopo è quello di presentare dei libri, libri che in qualche modo hanno dei legami con il nostro rapporto con Dio, con la fede, con la storia del mondo cristiano e anche con l'attualità. Nel corso ormai di questi tanti appuntamenti che abbiamo avuto abbiamo presentato davvero ormai tanti libri e io colgo anche questa occasione per ringraziarvi per come ci seguite, per come interagite e per come seguite con attenzione gli argomenti che io decido di proporvi e per questo da parte mia c'è un forte sentimento di gratitudine perché so che questo lavoro non è vano. Infatti noi oggi ad esempio affronteremo un argomento molto particolare che è un argomento sia legato all'attualità ma di grande interesse anche per quelli che in qualche modo sono interessati allo studio dei fenomeni biblici, dei fenomeni teologici. Tanto è vero che oggi presenteremo la biografia del fondatore del movimento sionista Theodor Herzl. In particolare ci affidiamo ad un testo scritto da un autorevole docente accademico ma anche un senatore della Repubblica che è il professor senatore Luigi Compagna che abbiamo intervistato in esterna e che vi ripropongo questa intervista che ha scritto appunto questo libro edito dalla Rubettino che si intitola Theodor Herzl, il Mazzini di Israele e capirete che questo sottotitolo non è a caso e vedrete meglio e capirete meglio perché. Questo libro si freggia della presentazione della prefazione del Presidente Emerito della Repubblica Francesco Cossiga che vi garantisco è veramente molto interessante ma la domanda che vorrei porvi vi siete mai chiesti dell'importanza della questione ebraica della questione di Israele per gli accadimenti politici per quello che viene descritto nella Bibbia da un punto di vista storico se a queste domande voi volete dare una risposta studiare il testo di Theodor Herzl leggere la biografia di quest'uomo che badate bene ha segnato la storia non solo del popolo ebraico durante il novecento agli inizi del novecento ma per tutto il secolo anche con risvolti internazionali per questo da parte nostra è necessaria una riflessione su questo tema così importante e poi mi permetto di dire anche per magari i non credenti che ci seguono che questo è un testo fondamentale perché è legato all'attualità la questione ebraica lo Stato di Israele in questi giorni vive un momento molto particolare da un punto di vista politico sulla scena internazionale non mi voglio dilungare più di tanto perché voglio dare lo spazio a questa intervista e ascoltate cosa ci dice l'autore del libro il senatore Luigi Compagna. Cari amici e telespettatori benvenuto a questo nuovo appuntamento della rubrica televisiva al libro aperto oggi abbiamo ospite con noi di questo ne sono particolarmente onorato il senatore professore Luigi Compagna oggi è qui in veste più che di politico di scrittore e professore infatti stiamo per affrontare per presentare un libro molto importante edito dalla Rubettino intitolato Theodor Herzl il Mazzini di Israele con prefazione del presidente emerito della Repubblica Francesco Gossiga ringraziandolo la prima domanda che vorrei porre al senatore Compagna è proprio questo perché questo titolo Herzl il Mazzini di Israele? Ma diciamo che Herzl è un titolo il Mazzini di Israele è un sottotitolo le ragioni del sottotitolo sono quelle un pochino se vuoi di evocare questi 150 anni di storia d'Italia che abbiamo entrambi sulla cravatta e un'altra un po' meno superficiale è quella non tanto di evocare una analogia tra i due personaggi che appartengono a generazioni diverse a contesti diverse eccetera ma perché gran parte dell'idea di nazione con la quale Herzl fondò il sionismo politico può ricondursi nella storia del diritto internazionale a quella di Mazzini o se vuoi cercando un anello intermedio a quella del grande Pasquale Saneslao Mancini giurista ministro della giustizia nel primo governo dei Paetis perché Herzl a Basilea nel 1897 pote dire ho fondato lo stato di Israele perché quella che era nata era l'assemblea parlamentare di uno stato al momento sprovvisto di territorio sotto questo profilo lo riconobbe un grande studioso italiano un uomo dall'altissima coscienza civile e religiosa Francesco Ruffini e Francesco Ruffini capì all'indomani della prima guerra mondiale che era quello il momento nel quale Israele doveva nascere all'indomani di una guerra europea combattuta per i principi di nazionalità sarebbe stato effettivamente un atto di cinismo e di responsabilità far nascere l'Iraq la Giordania quegli stati di cui disse Winston Churchill si celebrò il battesimo con poche tazze di tè e molti bicchieri di whisky e non far nascere allora lo stato di Israele. Come vedete il professore senatore Luigi Compagna è subito entrato nel vivo degli argomenti che ha trattato nel suo libro e ci ha spiegato in maniera molto chiara alcuni passaggi storici fondamentali io volevo approfittare di questa occasione anche per fare i complimenti al senatore Compagna per aver vinto il premio Matteotti della presidenza del Consiglio dei Ministri è un premio molto prestigioso nel nostro paese a testimonianza della validità storica di questo libro degli argomenti che sono in esso trattati ma io vorrei che lei ci dicesse qualcosa di più su questo personaggio che lei tratta nel libro è stata una figura molto emblematica ma anche così discussa all'interno proprio del mondo ebraico ci dica qualcosa in più su questo personaggio guardi io non sono ebreo sono cristiano il personaggio da un punto di vista storiografico mi aveva sempre affascinato poi mi capitò di diventare nella quattordicesima legislatura invitato a ciò dal mio allora presidente d'aula collega amico Macello Pera e dal presidente della camera Casini di assumere la presidenza del comitato di amicizia dell'associazione Italia Israele nell'ambito dell'unione interparlamentare in quei cinque anni avendo come cortesemente lei ha detto come altro mestiere quello della storiografia della storia della routine politica disse ecco qua adesso ho l'occasione per potermi dedicare a un libro su Erzler Erzler è un personaggio lei ha detto molto controverso fino a un certo punto perché io cerco di attraversarne la figura ed il significato in termini abbastanza piani ebbe una vita infelice morì prestissimo a 45 anni le figlie una tragedia Auschwitz perché no tutte queste storie certamente Erzler non appartiene come i sionisti della generazione successiva alla tradizione socialdemocratica laburista chiamiamola come vogliamo insomma Ben Gurion, Golda Meier eccetera Erzler è uno scrittore di commedie musicali è un ungherese la famiglia è trapiantata a Vienna lui è cugino di un senatore che ho avuto il privilegio di conoscere prestigiosissimo Leo Valiani e lo collocherei dal punto di vista della dottrina politica nel mondo liberal nazionale con simpatie prussiane per lui Israele deve inserirsi laddove la parabola storica di fine ottocento colonialismo imperialismo eccetera guardando all'Inghilterra lo possono consentire nel disfacimento dell'impero ottomano secondo Erzler bisogna conquistare i confini giuridico e costituzionali per far nascere Israele e questa rispetto al dramma di fine ottocento di un'Europa nella quale l'antisemitismo arriva a Parigi la capitale del droit de l'homme è una grande idea è un'idea carica di avvenire è un'idea che non ebbe percorso facile fu contrastata sotto il profilo religioso ed è comprensibile dei più ortodossi dei rabbini che vedevano nell'idea dello stato un ridimensionamento un qualcosa di meschido rispetto all'universalismo ebraico fu contrastata o perlomeno non capita dai capitalisti dai Hoshild dal barone Hirsch ai quali gli sembrava che entrare in politica entrare in diritto internazionale fosse un'avventura laddove Erzler aveva capito che la questione ebraica o conquista il centro del tavolo della diplomazia del diritto internazionale altrimenti è destinata alla tragedia perché perché la rivoluzione francese dicendo che gli ebrei sono uguali a tutti gli altri come esseri umani come individui ma non hanno diritto alla nazione ha escluso il popolo ebraico da quello che diceva Federico Chabot è la sacralità del nuovo concetto politico come vede rincontriamo mazzini la nazione senta senatore una battuta finale a conclusione di questa presentazione che volevo chiederle il presidente emerito della repubblica cossiga ha scritto nella prefazione di questo testo che niente nasce dal nulla le volevo chiedere quanto importante il recupero della tradizione non solo diciamo per la questione ebraica ma anche per l'italia alla luce dei 150 anni dell'unità d'italia e se ci può dire anche qualcosa sull'attualità che coinvolge diciamo lo stato di israele beh a mio giudizio israele è nato nel secondo dopoguerra ed è nato alle nazioni unite all'onu qui bisogna stare molto attenti perché tante volte non c'è nulla che offenda gli ebrei quanto dargli la sensazione che il loro stato sia un frutto del secondo dopoguerra quasi una ricompensa della tragedia della shoah che è l'unicità no io credo che proprio le considerazioni di cossiga proprio per me mi consiglia tanto aizzato diciamo nel parallelismo con l'esorgimento italiano con le vocazioni della figura di mazzini sia un monito a non abbandonarsi a questo sentimento che è un sentimento fesso ed è falso alla luce della vicenda storica che qui si narra allora noi ringraziamo di cuore il senatore luigi compagna per essere stato con noi e vi do appuntamento alla prossima puntata della rubrica televisiva al libro aperto grazie cari telespettatori vi avevo promesso che questa sarebbe stata una puntata interessante spero di aver tenuto alta le vostre alle vostre aspettative perché come vedete il tema è interessante e vi confesso anche che non basterebbero per la verità ore per addentrarci nel merito di alcune questioni veramente così complesse tuttavia chi ha una preparazione biblica e direi anche spirituale per comprendere alcuni meccanismi sulla questione ebraica è certamente avvantaggiato però mi permetto di dire e di suggerire che questo testo risulta essere importante quello di teodor herzel scritto dal senatore luigi compagna perché in maniera direi anche scorrevole semplice ci aiuta ad approfondirci su questo tema e vorrei anche infine a termine di questa puntata ricordarvi un aspetto molto importante che il fenomeno del sionismo è di rilevanza internazionale storica e politica importante però ahimè vedo che spesso è sottovalutato o forse nemmeno conosciuto nell'ambito di chi si interessa invece di questioni legate agli aspetti biblici dottrinali teologici e quelli sostanzialmente legati agli ultimi tempi se volete approfondire il mio consiglio questi temi è importante capire come si è sviluppato il movimento sionista che non è assolutamente terminato e concluso ma è destinato ad avere un ruolo primario ancora per molti anni io vi ringrazio per la vostra attenzione come sempre da parte mia un calorosissimo saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata della rubrica televisiva a libro aperto grazie grazie a tutti